ANSA, Palermo, 16-8, Di Maio che invoca gli osservatori OSCE per le elezioni siciliane mi ricorda gli inviati della CNN che sbarcavano a Palermo con il giubbotto antiproiettile. Solo che quelli erano americani, Di Maio no. In Sicilia, per affrancare il voto dalle obbedienza, dalle proteste, dalle appartenenze non servono i caschi blu né l'OSCE. Bastano candidati che chiedono un voto libero e irresponsabile. E i voti liberi da condizionamenti in Sicilia, sono ben più numerosi di quanto immaginano Lega, 5 Stelle e compagnia. Il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale, con la matita in mano. Lo diceva Paolo Borsellino. E questo va spiegato a Di Maio Quanto al rischio di voto mafioso, più che gli osservatori OSCE basta mettere gli amici dei mafiosi fuori dalle proprie liste. E questo va spiegato a Musumeci. Lo dice il candidato alla presidenza della regione siciliana per la sinistra Claudio Fava Quanto al rischio di voto mafioso, più che gli osservatori di voto mafioso, più che gli osservatori di voto mafioso, più che gli osservatori di voto mafioso.